Averino vince ma convince a metà nell'ultimo test del precampionato. Nell'ottava sgambata la truppa di Roberto Torino batte 4-0 il Città di Sufla, società militante nel campionato di eccellenza campana. Il tecnico Salentino conferma il 3-4-3, tra i palici ai pizzi, la panna resta e box a scopo precauzionale. La vera novità di giornata è lo schieramento in avanti di Canutè, potenziale segnale incoraggiante in chiave rinnovo per il funambolo senegalese. Dopo il test di giovedì contro l'FC Matese, Torino adotta appunto la rotazione. Difesa con Igenes sbraga Briletto, Dall'Oio e Casarini a centrocampo, con Rizzo e Tito sulle fasce. In avanti, oltre a Canutè, spazio di Gaudio e Maniero. Quest'ultimo apre le marcature al nono, raccogliendo l'ottima imbeccata di Canutè. E l'attaccante napoletano a trovare il rigore su uscita maldessa di Amico, dagli 11 metri va Dall'Oio che si fa ipnotizzare. Al 41esimo frittata della difesa giallo-blu tra D'Amico e Palumbo, Di Gaudio ringrazia e segna. La prima frazione di gioco va in archivo sul punteggio di 2-0. Nella ripresa dentro Ceccarelli al posto di Maniero, Canutè funge da falso 9. Al 74esimo, Dall'Oio interrompe una seconda frazione di gioco alla Camomila con la rete del 3-0. Il centrocampista porta palla con la serpentina, si beve tre difensori del Sorofra prima di depositare il pallone in rete. Gran bel gol dell'ex Palermo che da prima era apparso deludente. La parola fine arriva con la pennellata su punizione di Ceccarelli, prodezza dell'attaccante che pennella una punizione del limite perfetta. Il pallone si infila all'incrocio dei pali alla sinistra di Egidio. Al triplice fischio, il tifo carica la squadra in vista dell'inizio del campionato. Domenica si va a Pescara per un match dal sapore antico che mette già in palio tre punti preziosi. Domenica si va a Pescara per un match dal sapore.